La città sportiva è un'unica di aver perfezionato il trasportimento del cacciatore Carlo Peragatti Il nostro difensore ha soddisfatto con un fatto triennale e sposato con entusiasmo da Carlo Samalanto E sarà a disposizione la mister dal campo a partire da maggiori 80.000 uomini Però di Amalanto facciamoli sentire il nostro calore con il solito dello stadio Carlo Peragatti Benvenuto sempre sull'oponza Aizzo